MED! MED si definisce un alieno che arriva dalla Sardegna. Il suo nome d'arte è l'acronimo di My Advice Doesn't Help. È autodidatta e compone brani in inglese con arrangimento in rap e black soul. Il suo stile ricorda un po' Marco Lingoni. La sfida più ardue fatta per lui sarà quella di non imitarlo. E voi cosa ne pensate di MED? Andrà avanti nel programma, statevi a sapere!